Latte, caglio, panna. Per essere casaro per un'ora, una giornata a Malga Pusterle, nel comune di Roana, permetterà di vivere le tradizioni della montagna e dell'arte casearia. È la terza edizione di Domeniche in Malga, organizzato da Latterie Vicentine, per promuovere la tradizione dell'alpeggio e il territorio dell'altopiano di Asiago. Dalle 10.30 tanti appuntamenti anche per i bambini, tra laboratori, letture animate e spettacoli. E i malgari insegneranno appunto a produrre una cacciotta in totale autonomia. Due turni disponibili, alle 11 e alle 15, con 13 posti ciascuno. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 12 agosto.